Sabato 26 marzo al Pirellone di Milano, nella Sala del Gonfalone, si terrà un convegno dedicato al ricordo di Cesare Golfari, Presidente della Regione Lombardia, dal 1974 al 1979. Siamo a Galbiate, il comune dove Golfari è stato sindaco per un decennio dal 60 al 70 e siamo nella piazza che Galbiate ha già dedicato al senatore Cesare Golfari. Chiediamo un ricordo di Golfari come sindaco a Giuseppe Riva che è stato complessivamente per 15 anni in comune a Galbiate, prima vice sindaco per 10 anni e poi sindaco per altri 5. Golfari è ricordato anche per alcune opere importanti, facciamo una domanda prima sulle opere pubbliche e poi sul politico in quanto tale. Qui a Galbiate è ricordato per una serie di opere pubbliche importanti che hanno cambiato il paese, che hanno fatto crescere il paese che allora era di 5.000 abitanti e oggi sono più di 8.000. Quindi dobbiamo tornare indietro oltre i 50 anni fa. Galbiate era un piccolo paese agricolo. Le opere più significative che possiamo ricordare in questo decennio è stata la costruzione del Palazzo Municipale a Galbiate che fu inaugurato da Aldo Moro nel 1978. Un'altra opera significativa è stata la costruzione della Scuola Media, Scuola Media a Galbiate che allora non era incluso nei finanziamenti ma lui riuscì a trovare una norma che agevolò la costruzione grazie alla costruzione di prefabbricati. La Scuola Media fu un prefabbricato e con questo stratagemo riuscimmo a avere la Scuola Media e Galbiate oltre alla Scuola di Villa Vergano. Altro intervento che fece Golfari era il problema dell'acquedotto. Galbiate è un paese che soffre molto la carenza d'acqua e i suoi interventi contribuirono ad alleviare questa deficienza. Lui è stato sindaco, l'ho detto prima, lo ripeto, dal 1960 al 70 quando lasciò la carica di sindaco per essere eletto al Consiglio regionale di Lombardia, prima elezione del Consiglio regionale dove nel 1974 divenne secondo presidente della regione dopo Piero Bassetti. Quindi io posso tornare a golfare politico. In effetti fu anche un maestro di politica. Qui in quegli anni 60 Galbiate era anche un centro di ritrovo dei sindaci della zona. I sindaci, mi riferisco a Spreafico Molteno, Maldini Casatenovo, Cittereo Lomagna, Zappa a Merate che qui si trovavano per elaborare le strategie politiche e le strategie amministrative. Anche dal punto di vista amministrativo Galbafari fu un precursore. Se pensiamo negli anni 60, in pieno boom edilizio, lui riuscì a imporre un PDF, il piano di fabbricazione che allora non era obbligatorio. Quindi cominciare a abituare la popolazione a dire se qui ho il mio terreno purtroppo non posso farlo perché devo guardare un piano urbanista. Quindi dal punto di vista amministrativo diede un grosso contributo allo sviluppo non solo di Galbiate ma anche dei comuni e limitervi con la collaborazione dei sindaci che ho appena citato. Fu anche un centro politico, Golfari fu anche un uomo politico. Qui a Galbiate nel oratorio, nel solaio del compianto Don Giovanni Caloni fu ciclostilato il ciclostile un giornalino intitolato Centrosinistra. Allora, con un ciclostile a manovella, si stampavano 700-800 coppie fu anche dal punto di vista politico un grande uomo che riuscì a formare anche una nuova classe dirigente di Galbiate guidata dal compianto professor Panzeri e poi nel 1970, quando lasciò l'amministrazione, cambiarono tutti gli amministratori e quindi diede vita a questa nuova leva politica che poi amministrò fino agli anni 2000. Ecco l'ultima domanda. A Golfari si deve anche l'autorizzazione. Grazie. Grazie. Grazie.